Eccola la pepita gigante di 5,5 kg da oltre 300.000 dollari australiani circa 315.000 dollari americani trovata da un cercatore d'oro dilettante nello stato australiano di Victoria. In questo video postato sul web che documenta la scoperta si vede appunto la super pepita che presenta una forma Y. Insomma il sogno di ogni cercatore d'oro scoperta grazie a un metal detector a soli 60 cm sottoterra.